Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, i carabinieri di Cortona hanno arrestato in flagranza per tentato furto di Rami, un 28enne di origine albanesi, ma domiciliato ad Arezzo anche se di fatto senza fissa dimora. I militari, allertati da un uomo di Montesanzavino, sono andati nei pressi di un ristorante chiuso del posto dove era stata segnalata la presenza di alcune persone sul tetto intente a rimuovere i canali di grondaia in rame. Sono riusciti ad intercettare un uomo che era ancora intento a smontare i pezzi di grondaia. L'uomo, che in un primo momento non si era reso conto della presenza dei carabinieri, una volta accortosi di loro, ha tentato la fuga ma è stato bloccato ed arrestato. Su di lui era pendente un ordine di carcerazione di un anno ed otto mesi emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per reati inerenti stupefacenti e delitti contro il patrimonio. Un altro furto, invece, ancora una volta in un punto vendita a Canu in Valdarno. Dopo i blitz dei giorni scorsi nei negozi di Montevarchi e San Giovanni, adesso due malviventi sono entrati all'interno del locale di Via Fratelli Cervi, incuranti dell'antifurto che era scattato. I ladri probabilmente pensavano di trovare un bottino soddisfacente ma invece sono andati via delusi. In cassa c'erano poche decine di euro e così si sono accontentati di una crostata ed alcuni biscotti. È stata però rubata la cassettina che raccoglieva le donazioni per il Cacit. Ed adesso torniamo a parlare del caso di Guerrina Piscaglia. Sono trascorsi dieci anni della sua scomparsa ed adesso il Tribunale di Arezzo potrebbe dichiararne la morte presunta. Sono passati dieci anni del primo maggio del 2014 ed adesso il Tribunale di Arezzo può dichiarare la morte presunta di Guerrina Piscaglia all'epoca dei fatti cinquantenne che sparì senza mai far ritorno da Caraffello nel comune di Badia Tedalda dove viveva con il marito Mirko Alessandrini e il figlio Lorenzo. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato ma le indagini e il successivo processo portarono alla condanna definitiva a 25 anni di Gratiena Labi all'epoca dei fatti vice parroco di Caraffello per omicidio volontario e occultamento di cadavere ad incastrare l'ex religioso che continua a professarsi innocente dal carcere di Rebibbia alcuni sms inviati dal cellulare della donna scomparsa e le analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefonini dei due. Secondo i giudici di ogni grado di giudizio Alabi Guerrina avrebbero avuto una relazione sentimentale testimoniata dai 4.000 messaggi inviati tra i due sino al 1 maggio 2014. L'ormai ex religioso l'avrebbe uccise il giorno stesso della scomparsa secondo gli atti processuali la paura di uno scandalo immovente dell'omicidio. Sulla vicenda è ancora in corso la causa civile con una richiesta di distarcimento milionaria intentata dai familiari della donna, una dal figlio e dal marito ed un'altra speculare dalle sorelle e dalle nipoti. Ai giardini della Porcinai, come annunciato alcuni giorni fa dall'amministrazione comunale, è arrivata la vigilanza privata. Era stato annunciato dal primo cittadino Alessandro Ghinelli solamente qualche giorno fa e oggi sono arrivati i vigilanti. Spetterà infatti alla vigilanza privata a tenere sott'occhio questa zona, la zona dei giardini della Porcinai, a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Il presidio andrà avanti sino all'inizio dei lavori di riqualificazione, l'avvio è previsto per il prossimo giugno. Sono già stati individuati anche i giorni e le fasce rarie in cui la zona sarà presidiata. I vigilantes saranno sul posto dalla domenica al giovedì dalle 14 alle 2, mentre il venerdì e il sabato la vigilanza sarà assicurata sino alle 4 del mattino. Peggio non faranno sicuramente, è certo che se ci fosse qualche cosa per cui intervenire non possono intervenire, quindi diciamo possono fare un po' da deterrente sperando che non capiscano subito che non sono della polizia. La zona dei giardini del Porcinai nelle ultime settimane in più occasioni era stata teatro di episodi di criminalità e degrado. Commercianti e residenti ormai da anni lamentano anche spaccio, violenza e bivacchi. Oltre al presidio fisso, l'amministrazione comunale ha già annunciato che saranno installati dei fari per illuminare meglio i giardini e saranno sfoltiti anche gli alberi per rendere più ampia la visibilità. Spero sia una cosa positiva, ora vediamo un po' i risultati. Di sicuro c'è un po' più di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Sicuramente è un problema di non avere un organico sufficiente per poter essere presenti come devono e vediamo un pochino, probabilmente la vigilanza ha un potere anche di intervento non personale ma di far intervenire le forze dell'ordine molto più veloce di noi. Noi di solito se chiamiamo passa un po' di tempo prima che vediamo. Speriamo che sia di buon auspicio questa presenza perché ne abbiamo quasi bisogno, vorrei dire, dopo tutto quello che è successo. Controlli nella zona oggi anche da parte delle forze dell'ordine come deciso nell'ultimo tavolo sulla sicurezza in prefettura. Presenti polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza. La vasta aria depressionaria che sta interessando l'Europa provoca instabilità anche in Toscana con piogge temporali. La sala operativa della protezione civile regionale ha così esteso alla mezzanotte di oggi il codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore per tutta la regione. Ha emesso poi un codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore per temporali forti con validità dalla mezzanotte sino alle nove di domani ma limitatamente a tutta la fascia costiere e alle zone adiacenti dell'entroterra. Domani invece piogge rovesci nella prima parte della giornata sulla costa e sulle zone centro-meridionali. Andiamo adesso a Saione. Prosegue infatti la raccolta firme in difesa degli alberi della piazza dove come possiamo vedere in queste immagini hanno già preso avvio i lavori. In queste ore infatti è arrivata una camion per raspostare la statua di San Francesco e il Lupo. Di fatto nella nuova piazza sarà eliminata la strada che attualmente divide il Sacrato della Chiesa dall'attuale aiuola e sarà ricompresa tra due nuove strade che attraverseranno il quartiere. È poi previsto il tanto discusso taglio di 11 alberi. Il Comitato di Cittadini ha già raccolto oltre mille firme e l'amministrazione questo pomeriggio incontrerà i residenti ma è anche in programma un consiglio comunale aperto per il prossimo 16 maggio. E sempre l'amministrazione comunale ha organizzato anche degli incontri in Eccas per parlare di truffe agli anziani. Ancora due gli appuntamenti in calendario. Riconoscere e prevenire le truffe e i reati contro il patrimonio. Tornano così gli incontri organizzati dal Comune di Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri e la Polizia Municipale nei centri di aggregazione sociale. Due gli appuntamenti in programma, il 3 maggio al Castortaglia e il 10 maggio invece ad Indicatore, entrambi con inizio alle 21.15. Questa è un'iniziativa che abbiamo proposto di fare perché tra i nostri soci del centro di aggregazione di Tortaglia ce ne sono almeno due che ci hanno raccontato lo stesso tipo di truffa fatta per telefono con i nipoti o figli ori che hanno fatto un incidente quando anche chiedevano soldi. Quindi siccome i nostri centri di aggregazione sono frequentati prevalentemente da persone, io dico anziani, ma poi anche diversamente giovani, credo che sia bene alzare il tiro anche dell'attenzione a questo tipo di fenomeno che ci sono professionisti del settore. Nel corso degli incontri saranno illustrate le tecniche utilizzate dai malviventi per indurre le vittime a consegnare denaro o altri oggetti preziosi e dei semplici accorgimenti utili per la prevenzione del reato stesso durante la fase esecutiva. Soprattutto per chi facente parte della terza età ha conoscenze informatiche diverse dai nostri giovani ai nostri ragazzi è giusto che questa fascia di età venga informata e venga anche tutelata con la presenza delle forze dell'ordine che possono mettere a disposizione la loro esperienza e raccontare come si può fare a non cadere nella rete di questi trafficanti, chiamiamoli così. Antibiotico resistenza sono davvero allarmanti le previsioni attuali come confermato anche dalla direttore del reparto di malattie infettive di Arezzo. È fondamentale affrontare questo problema in maniera unitaria e globale perché le previsioni ci dicono che se non poniamo una soluzione a questo tipo di problema da qui al 2050 circa 10 milioni di persone nel mondo potrebbero morire di infezioni correlate a batteri multiresistenti quindi più addirittura di tumori, più addirittura di altre malattie che oggi insomma vanno per la maggiore. Potrebbe essere la prima causa di morte nel 2050 all'antibiotico resistenza, una previsione allarmante che richiede un intervento urgente e globale. Comporta un problema assolutamente importante che quando veramente bisogna trattare un paziente con un'infezione batterica magari con il rischio che l'infezione possa creare delle complicanze addirittura anche mortali per quel paziente perché non ha una terapia adeguata. L'antibiotico resistenza attualmente è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Salute una grave minaccia per il mondo intero un fenomeno multifattoriale e complesso. Può dipendere da più aspetti eccessivo utilizzo diciamo in medicina umana talvolta noi assumiamo antibiotici quando non dovrebbero essere assunti vedi le infezioni virali oppure l'altro esempio è in medicina veterinaria dove si usano spesso antibiotici che possono poi essere diciamo in qualche modo ritrovarsi anche nelle nostre tavole o nell'ambiente quindi la lotta a questo fenomeno è una lotta che prevede un impegno One Health un impegno globale quindi medicina umana, animale e ambientale. L'antibiotico resistenza viene così definita una pandemia silenziosa fondamentale adesso mettere in atto azioni virtuose. Intanto io direi che è fondamentale avere la consapevolezza di usare gli antibiotici quando servono e questo diciamo intanto noi prescrittori quindi i medici, i sanitari, i dentisti, gli odontoiati che prescrivono antibiotici ma quando poi sono indicati ma l'altro creare anche una consapevolezza questo secondo me è il punto più critico nei riguardi della popolazione quindi perché no partire anche con una formazione, un'informazione a livello delle scuole a livello di enti eccetera che ci possono in qualche modo aiutare a rendere più consapevoli le persone sul buon uso della terapia antibiotica. Ancora salute, sabato 5 maggio al Valdichiana Village ritorna l'iniziativa Lions in piazza. L'evento consentirà di offrire alla popolazione una serie di prestazioni sanitarie gratuite si va dallo screening per patologie cardiovascolari e respiratorie croniche alle consulenze diabetologiche, pediatria, diabetologia e screening oculistico per il glaucoma. Durante la giornata saranno anche effettuate dimostrazioni e tutoraggio sulle manovre di primo soccorso. Sarà infine attivo un centro di ascolto con psicologi circa la parità di genere e le diversità. E restiamo in Valdichiana dove in occasione del primo maggio c'è stata una doppia donazione per il sociale. Dal lavoro arrivano le risorse per il sociale. La Svi, azienda di Lucignano specializzata nella realizzazione di mezzi d'opera ferroviari in occasione del primo maggio dei suoi primi 25 anni di attività ha così chiamato a raccolta le proprie maestranze rappresentanti istituzionali del territorio e volontari dell'hauser di Lucignano e della pubblica assistenza di Marciano della Chiana per un'importante donazione. Due fiat panda nuove di zecca destinate allo svolgimento di attività socialmente utili. Siamo felici di fare questa operazione, di poter regalare questi mezzi per il servizio sociale che oggi ce n'è tanto bisogno e che quindi l'azienda, siccome sta andando bene, e ha possibilità anche di creare risorse per il sociale. Quindi è con grande piacere che in occasione delle celebrazioni dei 25 anni della Svi abbiamo l'onore di regalare queste due panda. Spero che sia solo un inizio ma che in futuro si possa fare anche altre donazioni sempre rivolte per il sociale. perché noi in particolar modo ci teniamo a quest'operazione visto che facciamo anche altre operazioni per il sociale. Io intendo anche la sociale, quelli, i dipendenti che teniamo a lavorare. 250 persone è una bella operazione sociale perché hanno famiglie, hanno figli e quindi qui hanno la possibilità di avere risorse per mantenere la propria famiglia. La battaglia di Scannagallo rivive in Val di Chiana a distanza di 470 anni. Sabato 4 e domenica 5 maggio in calendario due giornate di iniziative tra Pozzo della Chiana, Fogliano della Chiana e Marciano che promosse dall'Associazione Culturale Scannagallo e a partecipazione gratuita si svilupperanno tra rivocazioni, danze rinascimentali, camminate, spettacoli e presentazioni di libri dove un pubblico di tutta l'età potrà vivere una coinvolgente e immersiva esperienza nei fatti storici. A Castiglion Fiorentino invece ieri il taglio del nastro della Maggio Castiglionese tra gli appuntamenti in programma anche il concerto dei Medici e Musica al Teatro Espina. Musica e solidarietà in apertura del Maggio Castiglionese al Teatro Mario Espina il concerto del primo maggio dei M&M Medici e Musica una band composta da professionisti della sanità. Dove essere una serata ai giardini, purtroppo la pioggia ci ha precluso questa possibilità e la facciamo a teatro. Quindi gli M&M stanno facendo questo concerto a favore anche dell'associazione per la casa di riposo di Castiglion Fiorentino. Un ringraziamento va fatto all'associazione Diabetici che si supportano sempre in queste nostre iniziative di beneficenza per cui un grazie anche loro. E a tutti farà comodo sicuramente avere una casa di riposo è sempre migliore quindi contribuiamo ascoltando della buona musica e grazie soprattutto ai medici che lo fanno per beneficenza da una vita che in tutte le serate che vengono chiamate partecipano con la testa dei pozzoni e con lo stesso amore. Musica Un concorso a premi di canto moderno e strumentale una bella serata all'insegna della musica per Casa Tevenin. Venerdì 3 maggio al bicchieraia con inizio alle 21.15 si altereranno infatti sul palcoscenico cantanti e musicisti per Music & Passion il concorso organizzato dall'associazione Summer & Winter Company e da Casa Tevenin con la partecipazione di Danzarte e il patrocinio del Comune. Iniziativa come detto a sostegno della fondazione di via Sassoverde. E adesso la pagina dello sport l'Arezzo Calcio Femminile ieri è scesa in campo e ha battuto il Pavia garantendosi così la permanenza in Serie B. Vittoria di misura per l'Arezzo Calcio Femminile che tra le muramiche del città di Arezzo ha sconfitto per una zero il Pavia Academy conquistando la permanenza in categoria con tre turni di anticipo al decimo subito occasione Arezzo Lico entra in aria, vede il movimento di Diaz la spagnola però non riesce ad impattare bene sulla palla che termina di poco fuori pochi minuti dopo le Maranto ancora però positive ma l'occasione non viene sfruttata al ventesimo l'Arezzo ancora pericoloso Razzolini lavora al limite dell'aria, un ottimo pallone per Lico un tiro da lontano, forte ma non preciso al trentacinquesimo è Diaz lavorare un pallone in maniera egregia cercando poi sul secondo palo Miotto che però arriva in ritardo due minuti il gol a Maranto Miotto manovra a centrocampo e decide di verticalizzare per Razzolini il capitano Amaranto entra in aria e lascia l'avversaria sul posto con una sterzata perfetta davanti al portiere la 97 spedisce il pallone all'incrocio decimo gol in campionato per il capitano Amaranto la seconda frazione si apre ancora con Razzolini, stavolta si mette in propria e tenta di sinistro la conclusione ma l'estremo ospite respinge al sedicesimo pressione Arezzo che porta Martino al tiro da fuori aria la sfera finisce fuori di poco al ventinovesimo in transizione negativa l'Arezzo si fa infilare da Codeca pochi minuti dopo un ottimo scambio offensivo favorisce Razzolini entrata in aria tenta il tiro da posizione dei filati ma non impensierisce Migliazza tre minuti dopo Itadei a trovare un cross insidioso addomesticato da Fragnito che viene atterrata in aria dal dischietto Razzolini si fa ipnotizzare dal portiere avversario e il risultato rimane fermo sul 1-0 al quarantaduesimo Licco direttamente da calcio d'angolo colpisce il palo facendo venire un brivido a tutto lo stadio triplice fischio ed esultanza per tutte le calciatrici Amaranto nelle ultime tre partite le ragazze di Mister Leoni cercheranno adesso di implementare il bottino di punti cercando di conquistare la miglior posizione in classifica per scontato non c'è mai niente e quindi oggi è arrivata per fortuna la matematica salvezza e quindi sono contenta di questo risultato e soprattutto di questa vittoria perché le ragazze se lo meritavano era l'obiettivo minimo e io non ho mai accettato troppo il termine salvezza perché non abbiamo mai giocato le partite per questo obiettivo ci sono ancora tre giornate quindi siamo soddisfatti di questo risultato anticipato e mi piace anche molto l'idea che ci sono molti giovani in campo quindi una crescita importante della nostra squadra con tante prospettive per noi possiamo sicuramente pensare già al prossimo anno abbiamo già dei punti di riferimento interessanti per poter diciamo non costruire costruire ma inserire ulteriori componenti che ci possono permettere di fare ancora meglio per me è una grande soddisfazione vedere molte ragazze della primavera che stanno crescendo con la prima squadra Ilaria Leoni è stata sicuramente il mister un'ottima opportunità per costruire questo processo che era voluto dalla società e quindi sono molto soddisfatto anche questa grande vicinanza quindi con la primavera e anche con tutto il settore giovanile per me è molto importante costruire dai giovani quindi era proprio l'obiettivo e ci stiamo lavorando e stiamo ottenendo dei buoni risultati il tennis a giotto invece debutta nei campionati di padel di serie C l'esordio è fissato per domenica 5 maggio quando alle 10 la prima squadra maschile romperà i liaccio sui campi casalinghi di via divisione Garibaldi con l'H2M di Campo Bisenzio nel turno inaugurale domenica 12 maggio poi fissata la data per il primo turno stagionale della squadra femminile di padel sempre di serie C con la trasferta in casa del TC Prato per stasera è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci